Parlavo con mia sorella e facevo qualche obiezione di tipo razionale. Mia sorella mi diceva sempre, vedi, questo dipende dal fatto che tu non hai il terzo occhio. Allora io devo dire che ero molto arrabbiata di non avere questo terzo occhio e secondo lei dicevo delle cose troppo banalizzate. Frequentando il teatro e quando ho preso in mano il teatro e quando ho cominciato ad occuparmi di teatro ho capito che cos'è il terzo occhio, probabilmente adesso ce l'ho, ma soprattutto ho capito che cos'è. E questa visione che va oltre, vede, c'è una bellissima poesia in cui un autore racconta come ci sono due orizzonti nella vita dell'uomo, quello che abbiamo alle spalle e quello che è di fronte a noi. Beh, il terzo occhio consente di vedere oltre il secondo orizzonte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.